Le immagini lavorate sono sempre risultate agli occhi degli osservatori, migliori, difficomistiche e confrontate a quelli originali. E, per quanto riguarda questo nuovo modello che ho sviluppato, le immagini lavorate da Germain Territmi hanno ricevuto maggiori provenienti quando confrontate con quelli che ho sviluppato dell'interno esterno, sia per quanto riguarda il numero di numeri. Grazie.